capitolo 21 relazione darmica una delle lezioni più preziose che ho imparato sedendo per molti anni in meditazione zen è stato che per poter stare con me stesso così a lungo ho dovuto trovare me stesso starsene seduti in silenzio e conoscere soltanto un'immagine di sé o un'immagine del divino è conoscere solo infelicità o un interminabile chiacchiericcio non si può mai essere completamente a proprio agio sedendo insieme a un'immagine per quanto buona essa sia quando invece si sta seduti come vero se allora si sta seduti come non immagine di sé non concetto di sé e non idea di sé si sta semplicemente seduti come spaziosità questo è il presupposto della relazione vera poiché se non ci relazioniamo con ciò che siamo veramente di certo sarà per noi impossibile stabilire una relazione vera e profonda con chiunque altro quando ci poniamo in relazione con l'altro dal nostro vuoto radioso la relazione è meravigliosa perché siamo veramente noi stessi siamo ciò che siamo davvero in essenza siamo innamorati di un mistero il mistero è innamorato di se stesso quando questo mistero è in relazione con un altro e il cosiddetto altro può essere un fiore un uccello il vento il freddo o un essere umano si rapporta a esso in quanto espressione dello stesso mistero è questa la relazione vera e sacra quando sappiamo di essere il rapporto proprio con una delle innumerevoli manifestazioni del mistero qui il mistero si manifesta come questo qui come quello qui come lui qui come lei qui come freddo e qui come amarezza qui come dolcezza qui come noia qui come dolore qui come felicità qui come confusione e qui come chiarezza tutto è una manifestazione del mistero il vero fulcro della relazione dharmica è la relazione con questo mistero con il nostro vero se se sediamo senza pretendere nulla da questo momento senza aspettare il momento seguente senza voler ottenere qualcosa qualunque cosa quando non stiamo aspettando di essere illuminati o di ottenere l'amore la pace o la tranquillità mentale e quando la smettiamo di pretendere alcunché da noi stessi allora il sacro semplicemente si apre proprio perché nessuna pretesa grava su di esso la relazione vera e il sacra con il momento presente sboccia quando non gli chiediamo di essere diverso da quello che è allora la bellezza sboccia fiorisce ma se abbiamo la minima pretesa riguardo a questo momento allora la bellezza ci sfugge la nostra pretesa distorce quel che siamo in grado di vedere e di sperimentare dentro di noi la mente pensa che essere liberi essere liberati o illuminati significa che tutte le esperienze spiacevoli vengono cancellate ma non è così il divino non oserebbe mai profanare se stesso rimuovendo qualcosa sarebbe come se ti tagliassi via un braccio vivere anche le emozioni e le esperienze spiacevoli essendo il mistero o dio essendo cioè il mistero di te stesso significa trasformarle completamente guarda la pienezza di ciò che è realmente qui la qualità del senza tempo dell'eterno mentre si rivela si manifesta attraverso tutte le esperienze allora il senso del sacro che scaturisce dal tuo vero se e di cui diventi consapevole si estende al di là delle sole esperienze piacevoli e abbraccia tutto lo spettro di esperienze possibili cominci a percepire in modo diretto che ogni manifestazione poco importa quale essa sia è il fiorire del divino se c'è confusione è dio che è confuso se c'è chiarezza è dio che è chiaro in breve sarà in grado di vedere dio in un mucchio di rifiuti nella spazzatura buttata via in un canale di scolo nel mendicante che non si lava da sei mesi mi viene in mente riguardo questa frase una bellissima poesia di tic natan che si chiama chiamatemi con i miei veri nomi è su youtube ed è meravigliosa comincia a vedere la stessa sacralità ovunque la medesima intima relazione darmica che il mistero intrattiene con se stesso e continua così sempre di più sempre più in profondità espandendosi in ogni area man mano che percepisci questa sacralità in tutte le cose sai di non essere più chi pensavi di essere sei un mistero vivente risvegliato che non può essere né toccato né veduto una volta che sai questo puoi stare in relazione in modo sacro ma se non lo sai e ti sforzi di rendere sacra la tua relazione stai solo cercando di conformarla alla tua idea di come deve essere una relazione sacra un altro nome per questo è violenza forse lo fai per un'ottima ragione con ottime intenzioni ma se cerchi di rendere sacra una relazione sei fuori strada ti è sfuggito il fatto che essa è sacra quando capisci che una relazione è già sacra allora vedi veramente che è una manifestazione del mistero quando vedi che tutto è sacro non perdi la capacità di fare distinzioni sei ancora in grado di vedere nell'ambito di una relazione dove vi sia disonestà dove tu non ti stia attenendo alla massima integrità dove ci sia una carenza di intimità o dove la relazione sia costruita su immagini idee proiezioni o pretese non è perché scorgi la sacralità della relazione che non riesci più a distinguere l'eventuale assurdità di certe sue aree queste due visioni non si escludono a vicenda a volte dio agisce in modo strambo rimanere così come sei vale a dire la luce della consapevolezza nel bel mezzo della relazione è la sfida più grande che un essere umano possa affrontare qualsiasi cosa venga scansata non venga affrontata sarà come un piccolo pulsante con un adesivo su cui è scritto premi qui e le dita ne verranno attratte è questo il bello della sacralità se non le va incontro se rimane inconscia ecco che appare un pulsante con scritto premi qui perché così non può più restare inconscia ecco qualcuno lo preme boom colpa ora la colpa è conscia è un'opportunità ma quel che facciamo di solito è proprio riportarla nell'inconsapevolezza più velocemente possibile così non ci accorgiamo che il tasto della colpa è appena stato premuto accidenti è da tanto che sta qui dentro di me è una parte del programma però è interessante di che si tratta invece di indagare semplicemente di solito siamo propensi a considerare la colpa dal punto di vista psicologico e a formulare un'interminabile serie di idee e filosofie su di essa ma che cos'è che effetto fa sperimentare la colpa chiedendoci che cos'è consentiamo alla coscienza di entrarci dentro di penetrarla quindi forse ci sarà colpa ma ora si tratta di colpa conscia se invece cerchi di fare qualcosa con la colpa ad esempio sbarazzartene allora non ci stai davvero dentro o insieme la luce della consapevolezza è un potentissimo agente di trasformazione e si innesca un profondissimo processo alchemico accettando di rimanere volontariamente consapevoli della nostra inconsapevolezza quando quel piccolo pulsante viene premuto viene a galla qualcosa di inconscio e siamo invitati a rimanere svegli tutto qui basta rimanere svegli e allora l'alchimia al luogo rimani sveglio semplicemente non fare niente di spirituale ad esempio fare 50 passi indietro ed essere il testimone da una distanza infinita della cosa inconscia che è affiorata è già meglio che perdersi in quest'ultima ma rimane pur sempre una forma sottile di inconsapevolezza perché è un modo ingannevole di schivare la consapevolezza o di sottrarla da ciò che è la consapevolezza è qui semplicemente non hai bisogno di spostarla indietro o su o giù o dietro qualcosa affinché sia effettivamente libera da ciò che affiora è già libera non è necessario che faccia marcia indietro solo il piccolo io pensa che ci sia bisogno di indietreggiare o di togliersi di mezzo e anche questo può essere portato alla consapevolezza ecco qua il piccolo io che cerca di fare qualcosa di spirituale che tenta di allontanarsi da qualcosa adesso è questo il pulsante che viene premuto e così adesso affiora la coscienza la consapevolezza non prende le distanze cercando di spiegare di correggere o di rimuovere alcunché la consapevolezza quando le si consente di essere sperimentata vissuta è profondo amore e premura per ciò che è l'amore si butta sempre a capofitto nel momento presente qui e ora abbandonandosi totalmente nell'adesso quando la relazione è così c'è semplicità c'è umiltà c'è molta intimità allora può incontrare un'altra persona in modo completamente diverso la maggior parte delle relazioni cominciano sotto forma di relazione inconscia quando la luce della consapevolezza giunge a risplendere dentro la relazione l'inconsapevolezza che vi è racchiusa viene svelata è di estrema importanza non spiritualizzarla nel momento in cui viene svelata alcuni vogliono spiritualizzare la loro relazione invece di renderla consapevole vogliono trasformarla in una fantasticheria nella quale il loro partner soddisfa tutte le loro idee spirituali riguardo a cosa potrebbe essere una relazione credono di sapere come dovrebbe essere come potrebbe essere e dove andrà quando allenti la presa e ti ammorbidisci ritorni a qualcosa di molto intimo e innocente dove sei finalmente disposto a dire la verità senza nascondere né fare entrare a forza la consapevolezza in un'agenda relazionale prestabilita ma semplicemente lasciandola affiorare questo può mettere in subbuglio la relazione proprio come la verità può mettere in può mettere te in subbuglio quando la verità emerge dentro di te se c'è qualcosa qualunque cosa che resta ancora aggrappata la falsità sarà ben visibile per contrasto e quando la consapevolezza entra nella relazione e comincia a funzionare e a muoversi semplicemente perché hai smesso di tenerla a bada la verità e la falsità in essa contenute andranno a cozzare tra loro e vedrai questa discordanza e a questo punto che i pulsanti vengono premuti non solo il mio pulsante o il tuo ora ce n'è anche un terzo il nostro pulsante ogni relazione ai nostri pulsanti perché quando io e te ci mettiamo insieme si viene a creare quest'altra cosa detta nostra se uno di noi due o chiunque altro preme il nostro pulsante la relazione scatta come una molla soltanto perché il nostro tasto è stato schiacciato questo noi avrà i suoi tasti e la sua inconsapevolezza che risulta dalla somma dei due pulsanti io man mano che consentiamo alla consapevolezza di entrare cessiamo di relazionarci partendo dalle nostre paure prova a immaginare cosa accadrebbe se nessuna delle tue azioni si fondasse su un senso di paura o di insicurezza è assai rivelatore osservare le nostre relazioni e chiederci cosa accadrebbe se non facessimo più nulla basandoci sulla paura o sull'insicurezza per la maggior parte della gente si tratta di una rivoluzione più la relazione intima maggiore sarà la rivoluzione se non si fa nulla partendo dalla paura dall'insicurezza è tutta un'altra storia è questo che intendo quando dico che la verità può mettere in subbuglio la tua relazione anche se potrebbe trattarsi di uno scompiglio molto positivo molte persone che hanno sperimentato una profonda intensa realizzazione della verità vengono sopraffatte dal difficile compito di essere ciò che sono veramente nell'ambito della relazione per paura o per incertezza riguardo al modo in cui questo potrebbe essere accolto o non accolto o a cosa potrebbe scatenare ti può far sentire molto insicuro perché non sai cosa potrebbe accadere se certe aree della tua vita che finora hai affrontato negando la verità venissero improvvisamente svelate molto spesso invece di far fronte all'insicurezza o alla paru o la paura indietreggiamo di conseguenza certi aspetti della relazione diventano dei pezzi di vita isolati separati nei quali alla consapevolezza non è consentito di entrare ma sappiamo tutti che sia a breve che a lungo termine più si diventa consapevoli e più diventa difficile mantenere la separazione se diventi pienamente consapevole relazionati partendo dalla divisione non è un'opzione possibile infatti è letteralmente impossibile essere pienamente risvegliati e non esserlo in alcuni aspetti della vita se non sei risvegliato ovunque significa che non sei ancora pervenuto alla pienezza di quel che sei quando vivi una piccola esperienza spirituale è molto facile credere che stai un gradino più su di qualcuno che a tuo parere non ha avuto la stessa esperienza non appena lo fai nessun incontro vero è possibile perciò come puoi andare incontro all'inconsapevolezza rimanendo innocente ossia guardando l'altro negli occhi e non da un gradino più in alto possiamo apprendere qualcosa sulla relazione d'armica ascoltando gli uccellini osservando la qualità del nostro ascolto la qualità dell'abbraccio del suono il modo in cui lasciamo che entri in noi e ci pervada facendo questo semplicemente diventiamo più consapevoli possiamo imparare molto di più sulla relazione d'armica da questo che da centinaia di libri quando partecipava ai ritiri presso il centro zen di sonoma un luogo molto tranquillo ci si alzava alle quattro e mezza del mattino per cominciare la meditazione seduta a quell'ora tutto era meraviglioso e immerso nel silenzio il sole iniziava appena a rischiarare il cielo prima di spuntare sopra l'orizzonte e si faceva la straordinaria esperienza di sentire il mondo intero e il proprio sé risvegliarsi era meraviglioso verso le sei e mezza ogni mattina dall'altra parte della strada di fronte al tempio zen si svegliavano anche i vicini avevano un'idea diversa di come ci si prepara ad affrontare la giornata infatti alle sei e mezza ogni mattina mettevano su la musica dei Led Zeppelin a tutto volume è in momenti come questi che si può imparare qualcosa sulla relazione d'armica è facile è facile rimanere consapevoli ascoltando gli uccellini nei momenti piacevoli guardando il divino che si manifesta nella bellezza nel proprio vero sé finché Jimmy Page non colpisce le corde per far risuonare i suoi primi poderosi accordi eccolo qua ecco l'invito che cos'è che tipo di relazione c'è tra me e questa cosa tra me e Jimmy Page ho scoperto che si trattava semplicemente di un altro suono e che era perfettamente a posto è stato bello perché ha allargato il mio senso della spiritualità era semplicemente ciò che è ecco qua dio che finge di essere una rock star dio non è soltanto le cose piacevoli i momenti belli tranquilli e sereni questa scoperta prende l'idea della spiritualità e la fa a pezzi fino alla radice dice ok vuoi vedere dio eccolo dio per intero non solo la parte che vuoi vedere ma tutto quanto poi come sferzata finale in almeno uno dei ritiri annuali l'ultimo giorno si sedeva in meditazione dalla mattina alla sera invece di andare a letto verso le 10 si faceva una piccola pausa poi si sedeva per altre tre mezz'ore alternandole con 10 minuti di camminata fino alle 11 e mezza poi tutto di fila da mezzanotte fino alle 4 del mattino in meditazione senza alzarsi mai così se per caso avevi creduto di aver raggiunto il nirvana durante il ritiro o di essere chissà chi perché la tua meditazione era andata proprio bene e ti sentivi alla grande te lo potevi scordare dopo cinque giorni o una settimana ti demoliva del tutto nessuno può andarsene sentendosi grande e forte dopo una strapazzata come questa forse ci potevi riuscire nella prima parte del ritiro ma non alla fine questo tipo di meditazione seduta non era veramente necessaria ma dopo aver partecipato a molti ritiri ho iniziato a capirne la bellezza che dono meraviglioso è stato non andarsene con qualche conquista spirituale strepitosa mamma mia che bello ripensando al benessere e alla serenità che ero riuscito a mantenere per tutto il ritiro che dono è stato non andarsene con qualche conquista spirituale strepitosa ripensando al benessere e alla serenità che ero riuscito a mantenere per tutto il ritiro che dono è stato essere restituito all'innocenza dopo un po' si è rivelata essere tutt'altro che una sconfitta c'era semplicemente la sensazione oh eccoci qui di nuovo 50 persone in una stanza e dopo tre ore e mezza starcene seduti senza interruzione stiamo tutti cercando solo di sopravvivere che meraviglia l'illuminato nello stesso identico modo del non illuminato cercano di sopravvivere il senso di difficoltà e qualsiasi opinione spirituale su me stesso alta o bassa che fosse sono crollate in quel crollo ho scoperto che il lasciar cadere giù la facciata era così delizioso bello e sacro è stata un'opportunità per vedere l'unità ovunque in ogni esperienza a prescindere dalle idee che avevo su come dovrebbe essere l'unità quando l'idea crolla la realtà del sacro ha un'opportunità per emergere e la sacralità vera è molto più bella dell'idea del sacro non così sensazionale ma molto più bella la relazione dharmica è una relazione che è reale il bello è nel reale non è nell'idea della relazione spirituale è nella sua realtà